Musica Annunciamo l'avvio di un nuovo fondo di sviluppo dedicato all'Italia che prevede capitali per 500 milioni di cui la prima sottoscrizione è già avvenuta da un Cornerson Investor che è un primario fondo sovrano per 150 milioni. Il fondo è previsto avere una potenzialità di investimento inclusa alla leva di un miliardo oltre al co-investimento che potranno fare gli investitori primari. Il fondo può investire in tutta Italia, partiremo naturalmente dalle città primarie e può investire in terziario, residenza, commerciale e logistica.